Sono l'ingegnere Elisa Abati dell'Ordine degli Ingegneri di Modena. Sono nel Consiglio, in particolare sono la delegata a partecipare al tavolo in cui con l'Agenzia per la Sostenibilità organizziamo la settimana della bioarchitettura. In questi giorni siamo quindi a partecipare alla settimana della bioarchitettura e della domotica del 2015. Già da questi primi giorni sta venendo fuori quello che auspicavamo, cioè di scoprire e capire qual è l'ultima frontiera delle tecnologie rivolte al risparmio energetico e anche al digitale. Nella giornata di oggi sono venute fuori cose molto interessanti, come quali enti si sono già interessati e stanno investendo in questi settori e quali invece purtroppo per mancanza di finanza pubblica non sono al passo coi tempi. Quindi sicuramente per il prossimo anno sarà importante fare una verifica su allineamento tra tutte le utilizzazioni di queste nuove tecnologie.